Come vedete di qua c'è un esempio, c'è l'inizia cavalleria, che ora mai sono rimasti due reggimenti, l'inizia cavalleria e il geno di cui abbiamo il comandante qui presente, credo che mi sentite, e noi indossiamo con orgoglio la divisa scolica e lo portiamo in tutto il mondo, spero di portare, l'abbiamo portato in tutto il mondo come il Libano e lo porteremo in giro verso l'Italia, orgogliosi indossati, quindi vogliamo indicare ancora oggi ai dragoni di allora, e da mogli oggi questo brano. Grazie a tutti. 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 qualcosa, comandante, aveva dei richiami all'inno d'Italia, è stato scritto da Novaro, un grande autore e musicista che per tanti è ricordato soltanto per l'inno e nemmeno, perché tanti pensano che l'inno sia di Mameli, ma solo le parole sono di Mameli, la vera musica è di Novaro, un grande autore che ha scritto pagine magnifiche dedicandola all'esercito e ai dragoni in questo caso. Grazie.